Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale. Andiamo subito a vedere insieme quelle che sono le principali notizie dalla nostra regione. Iniziamo come sempre dalla nostra prima pagina e si apre con la cronaca un ennesimo femminicidio, questa volta nella capitale, uccisa con un colpo di pistola al petto, sparato a pochi metri dall'ingresso di un ristorante dove coppie e famiglie amici stavano cenando. A togliere la vita Martina Scialdone, avvocata di 34 anni, secondo quando ricostruito dagli inquirenti, è stato Costantino Bonaiuti, 61 anni, fermato poco dopo dai poliziotti delle volanti in zona fidene. Secondo le prime informazioni raccolte anche ascoltando le costone che venerdì 13 gennaio erano sedute ai tavoli del ristorante Brado di Viale e Amelia, Zonia Furio e Camillo, Scialdone e Bonaiuti stavano cenando a loro volta. Un incontro è chiesto forse come ultimo tentativo di ricucire il rapporto. Però tra i due sarebbe nata una discussione sempre più animata, tanto da attirare l'attenzione dei gestori del locale. A quel punto l'uomo sarebbe uscito dal ristorante, mentre Scialdone avrebbe cercato rifugio in bagno, sentendosi minacciata dal 61enne. Una volta fuori, l'uomo l'avrebbe costretta ad avvicinarsi a lui e a portarla poco distante, dove poi avrebbe aperto il fuoco. E continuiamo con la cronaca. Parliamo del macabro ritrovamento nel fiume romano, nel Tevere. La giovane scoperta nel fiume era vestita con abiti eleganti quando l'hanno trovata, morta sulla banchina del Tevere sotto Ponte Mazzini. La ragazza Sara Girelli, 28 anni, diplomata al liceo artistico e borsista all'università, è uscita da casa sua a Civitavecchia giovedì sera per andare a Roma, senza fare però più un ritorno. Sul corpo nessun segno di violenza, ma dalla borsetta che aveva portato con sé la sera prima, gli investigatori del distretto Trevi-Campo-Marz non hanno potuto trovare i documenti. E passiamo alla politica. Tre elettori su quattro vogliono il termovalorizzatore, il sondaggio di Roma Today. Più o meno questo è il risultato B di media per il giornale romano Roma Today, realizzato nei giorni scorsi, un mese dalle elezioni regionali, che si terranno il 12 e il 13 febbraio prossimo. Oltre sette elettori su dieci vogliono il termovalorizzatore a Roma. Questo è quanto emerso. Infatti il 75% di tutti coloro che hanno risposto al questionario online si sono detti favorevoli alla costruzione del termovalorizzatore, un impianto per l'incenerimento dei rifiuti, che porterà a Santa Palomba, nel nono municipio, circa 600 mila tonnellate di spazzatura ogni anno, contribuendo alla chiusura del ciclo dei rifiuti nella capitale. E ancora continuiamo con la politica. Metteremo in campo una task force di agenti della polizia locale che fingendosi stranieri cercheranno di smascherare chi mette in atto le truffe ai danno dei turisti. A dirlo è l'assessore alle politiche della sicurezza pari opportunità e attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, che risponde così all'inchiesta del messaggero che ha evidenziato come molti eserciati del centro applichino tariffe differente a seconda se a bere un caffè sia uno straniero oppure un romano. Se questo tema in questi giorni mi sono confrontata con il capo della polizia locale di Roma Capitale, Uo Angeloni, abbiamo condiviso l'importanza, in vista dell'avvicinarsi del giubileo, di fare uno sforzo importante per contrastare questo fenomeno. E ovviamente continuiamo con la politica. A livello regionale, con la presentazione delle ultime liste, si è conclusa ieri la corsa per depositare le candidature per le regionali. Salta soltanto a Roma e provincia, saranno 600 in lizza alla tornata elettorale. Del 12 e 13 febbraio in 40 saranno eletti con il proporzionale e il resto con il premio di maggioranza, se gli aspiranti governatori. Nella prima mattinata di ieri sono presentati sia i rappresentanti di Fratelli d'Italia, il partito leader del centro-destra, sia quelli della civica del candidato governatore Francesco Rocca. Alessio D'Amato, candidato governatore del centro-sinistra, ha presentato i prescelti per la sua civica. Ha voluto solo donne come capoliste nelle cinque circoscrizioni. Ha voluto solo donne, dicevo, a Roma, per esempio, c'è Marta Bonafoni insieme a D'Amato. Tra i cinque stelle che candidano Donatella Bianchi, alla guida della regione, torna l'ex parlamentare Giulia Lupo. Poi le altre due donne, aspiranti governatore, Rosa Rinaldi con l'Unione Popolare, e Sonia Pecorilli con il partito comunista italiano. Spaccatura nella sinistra-sinistra, sinistra italiana con Massimo Cervilini, sceglie Bianchi. E vediamo delle bellissime immagini che arrivano da Nettuno. È stato il personale del poligono militare UTAT, guidato dal colonnello Dario Purfidi, a trovare questa mattina sulle spiagge dell'area militare una tartaruga marina, caretta, caretta, ferita ad una pina ed incastrata in alcune reti da pesca. L'esemplare è stato subito liberato dai militari e dal personale dei carabinieri interno a poligono che stavano monitorando la zona, ma proprio l'evidente ferita non le ha permesso di tornare subito in acqua. E così i militari sono rivolti alla capitanera di Porto di Anzio, competente per queste situazioni ed è stata subito attivata la rete di soccorso per questi magnifici esemplari marini che si fanno vedere sempre più spesso sulle nostre coste. Ricordiamo le ultime uova di questa estate. A breve arriverà a Nettuno il personale di Tartalazzo che valuterà se prendere in consegna l'esemplare per le cure del caso o se è in condizione di prendere la via del mare. Purtroppo sono sempre di più. Ovviamente aumentano le visite di questi esemplari e quindi aumentano anche le vittime delle imbarcazioni che con le eliche si feriscono e in alcuni casi perdono anche la vita. E sono queste le principali notizie del giorno. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi rimando ai prossimi appuntamenti sempre su Canale 81.